Cricca è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 13 maggio. Dalla sua esperienza nella scuola, finita ad un passo dalla finale, Giovanni porta a casa la voglia di vivere di musica e non solo. Con Isobel nella scuola non ha funzionato, ma il sentimento non è sparito, Giovanni Cricca è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Il suo percorso ad Amici 22 è finito ad un passo dalla finale, ma non per questo le esperienze vissute nella scuola sono svanite. Resta la voglia di cantare e soprattutto restano i legami importanti intrecciati nell'ultimo anno. Le amicizie, in particolare quelle con Gianmarco e Ramon anche loro ospiti in studio, e l'amore, quello travolgente con Isobel che Cricca spera di poter ritrovare, una volta finito il programma. Quello con Isobel, è un amore cresciuto velocemente tra le mura della casetta di amici. Cricca era fidanzato prima di iniziare il suo viaggio nel talent, ma incontrare la ballerina australiana ha ristabilito le sue priorità. Avevo una storia con un'altra ragazza prima, racconta il cantante a Silvia Toffanin. È molto bella ed è una persona che stimo ancora, ma quando è arrivata a Isobel tutta l'energia che ha portato in casetta mi ha colpito subito, ammette. Ben presto tra loro è scattato il bacio. Sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in casetta non hanno funzionato. Forse non era la situazione giusta. Ecco perché Cricca spera di poterci riprovare, nella vita di tutti i giorni. Il sentimento non è sparito, spero che potremo riprovarci, o almeno restare amici. Isobel è una grande ed è bella come il sole.